La registrazione è partita, lo ammettiamo tutti e iniziamo subito. Buongiorno a tutti. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno. Perdonateci per il ritardo di oggi, ma purtroppo c'è stato un piccolo intoppo. Cioè la lezione di yoga che si è inserita e ci sarà ogni venerdì è durata un po' più del previsto. E quindi come conseguenza stiamo iniziando un po' più tardi, semplicemente. La prossima volta chiaramente sistemeremo il tutto. Passo subito, sì. Una curiosità, ma visto che sono identificativi diversi, come mai si bloccano l'un con l'altro? Non riesco a capire come funziona. Che cosa si blocca, Miriam? Cioè, non possiamo passare al programma successivo se non completiamo quello... Certo, sì. È perché è uno stesso canale. Ah, come se fosse uno stesso canale. È uno stesso canale, perché è un unico account di Zoom. Perché è un unico account. Ci dovevo arrivare? No, è lecitissima la domanda, in effetti. Ciao, grazie. Grazie a te. Disattiviamo video per facilitare la connessione e audio, quello l'ho già fatto io. Se ci sono domande, come sempre, possiamo scrivere in chat. Dopo lasciamo uno spazio alle domande, come al solito. Passo la parola subito a Barbara per l'introduzione con il Qigong e poi a Christian per la rehabilitazione motoria. Buon allenamento a tutti. Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi facciamo questa introduzione di Qigong prima della riabilitazione motoria, a seguire dal Kundalini Yoga che ho potuto vedere... Scusate, ho potuto vedere un pezzettino. È stato molto interessante. Anche lì avete lavorato con il respiro. Quindi continuiamo a lavorare con il respiro. Patrizia vi ha spiegato, per chi c'era, molto bene, quello che vi dico anche io stesso e volentieri, cioè che respirare bene è importantissimo per pulire bene il nostro sangue, quindi far funzionare al massimo tutto il nostro organismo, ma anche per stare bene con la mente, con le emozioni, essere in equilibrio. Quindi adesso noi facciamo questa piccola introduzione anche per caricarci un po' prima della riabilitazione motoria che farete con Christian. Quindi, come al solito, vi invito a mettere le mani sulla pancia e a sentire, ascoltare la vostra respirazione. Quello che noi vogliamo, come diceva anche prima Patrizia, è molto importante questa cosa, è allungare un pochino il nostro respiro. Per fare questo e quindi renderlo anche più profondo, cerchiamo di ottenere una respirazione addominale, quindi cerchiamo di portare l'aria all'interno del nostro corpo, immaginando di farla arrivare fino alla pancia. Quindi quando io prendo l'aria dal naso, prendete l'aria dal naso, la mia pancia piano piano si espande sotto le mie mani, preme un pochino. Quando poi butto fuori l'aria dalla bocca, la pancia rientra. Quindi la prova che voi state respirando con l'addome, e quindi state respirando profondamente, facendo scendere completamente il diaframma, ce l'avete quando sentite la pancia che spinge sulle mani quando prendete aria e la sentite poi rientrare quando buttate fuori. Ora, è chiaro che non è semplice, quindi non fa niente se all'inizio sentite poco, continuate a provare. E anche non fa niente se all'inizio il respiro non è così tanto lungo, lungo diciamo, proprio come durata. Continuate a provare. Inspiro, espando, espiro dalla bocca, la pancia rientra. Adesso iniziamo i nostri esercizi. L'altra volta vi ho detto che stiamo facendo una forma tipica del Qigong molto antica che serve proprio per pulire i midolli, si chiama il lavaggio dei midolli e quindi serve per ripulirci completamente, pulire il nostro sangue attraverso il respiro e attraverso il movimento. Per cui seguitemi con questi esercizi perché servono proprio per andare a ripulire bene bene nei nostri midolli. Allora, prima di tutto inspiriamo sollevando le braccia davanti a noi. Prendiamo aria, gonfiamo la pancia e solleviamo le braccia fin dove possiamo. Non fa niente se non riuscite ad arrivare fino in alto. Espirando scendiamo. Le spalle sono morbide, tutto molto morbido. inspiro più rilassato possibile. Espiro faccio scendere le braccia morbidamente come se stessi nell'acqua. Un'altra volta inspiro le braccia salgono in alto. Espiro le braccia scendono lateralmente. adesso inverto, quindi inspiro espando l'addome le braccia salgono di lato. Espiro l'addome rientra le braccia scendono. inspiro inspiro mi immagino quest'aria fresca pulita nuova che entra nel mio corpo arriva fino alla pancia. Espiro immagino di eliminare tutti gli scarti le scorie tutta la sporcizia che abbiamo dentro. Inspiro in camero aria pulita espiro butto fuori tutto ciò che di stagnante ho all'interno del corpo. E ora abbraccio una sfera me la tengo qui appoggiata sulla pancia se non riesco a tenere le braccia su appoggio sulle gambe abbraccio questa sfera e mi immagino che la sfera sia come un prolungamento della mia pancia e quindi quando inspiro la sfera si espande le braccia si allargano un pochino quando espiro la sfera rientra si restringe un po' inspiro espando espiro butto fuori la sfera si stringe inspiro la sfera si allarga espiro la sfera si stringe tutto morbido le spalle sono rilassate inspiro sento questo pancione che si espande espiro sento il pancione che rientra un'ultima volta inspiro la pancia si espande espiro la pancia rientra adesso da qua inspiro le braccia parallele i palmi si guardano l'uno con l'altro da qua all'altezza del petto porto le mani come a preghiera appoggiate dal lato ovviamente dei pollici sul torace proprio in mezzo al petto e tiro e tiro su un pochino i gomiti senza sollevare le spalle quindi le spalle stanno ben giù i gomiti salgono e qua faccio faccio due o tre respiri sempre solo con l'addome espando solo l'addome qui tengo fermo il torace espiro mi raccomando le mani sono ben aderenti l'una con l'altra fino alla base del palmo inspiro la pancia si gonfia espiro rilasso le spalle sento bene il contatto con la terra l'appoggio sulla sedia inspiro gonfio bene la pancia raccolgo tutto il C tutta l'energia che mi serve poi per fare la riabilitazione motoria espiro pulisco elimino tutti gli scarti facciamo un pezzettino in più scendiamo adesso in questo modo apriamo le mani apriamo tutto i palmi arrivano paralleli ad essere paralleli con il pavimento le mani si toccano solo attraverso la punta dei medi espiro scendo inspiro salgo e ora come se volessi spingere due muri uno lontano dall'altro metto i palmi delle mani perpendicolari quindi stiro molto bene l'interno delle braccia fate quello che potete questo può essere piuttosto anche doloroso quindi piano piano spingiamo lateralmente la testa va verso il cielo le piante dei piedi sprofondano nel pavimento le mani si prolungano all'infinito una a destra le braccia si prolungano all'infinito una a destra una a sinistra gonfio la pancia e ritorno riportando la pancia all'interno e da qua inizio a spolverarmi un pochino mi spolvero partendo dal dorcio della mano parte esterna del braccio la spalla riscendo sulla pancia sul torace mi spolvero bene bene anche l'interno del braccio palmo e passo all'altro braccio una bella spolveratina così finiamo la pulizia e l'energizzazione per questa mattina e vado qua e poi bella spolverata pure al torace scendo scendo giù come viene lo facciamo una volta sola oggi risalgo all'interno delle gambe e massaggio bene bene questa pancia dove ho accumulato tutta l'energia di cui ho bisogno per continuare con la riabilitazione motoria insieme a Chris io vi auguro buona giornata ciao a tutti grazie mille Barbara ciao scusa per il ritardo però purtroppo oggi c'è stato un po' di di casino pazienza allora eccoci qui allora faccio la parola faccio io ok grazie Barbara innanzitutto per questa solita splendida introduzione di qigong che è stata una doppia energizzazione oggi praticamente quindi come al solito Barbara aveva già detto io ve lo ribadisco queste sono pratiche che vanno comunque ripetute e ripetute giusto Barbara anche a casa sarebbe l'ideale ripeterle più volte sì sì ve lo consiglio ci sono anche dei video da guardare sul se andate sul sito del comitato trovate dei video di qigong probabilmente troverete poi anche quelli di kundalini yoga dove anche si lavora molto sul respiro quindi mi raccomando anche l'esercizio semplice questo della sfera se ve lo ripetete a casa è una buonissima cosa benissimo grazie passo la parola a Cristian preparatevi come al solito con sedia posizione di base e un ambiente spazioso e sicuro buona riabilitazione buongiorno a tutti mi sentite? sì sì si sente benissimo forte e chiaro ok allora oggi sono in tenuta sportiva molto probabilmente dalle prossime elezioni saremo sempre in questa tenuta in quanto il caldo qui è diventato affoso fortissimo e quindi stare in divisa diventa pressoché impossibile detto questo oggi come vi ho detto la scorsa volta lavoreremo con l'esercizio aerobico in quanto la scorsa volta invece abbiamo lavorato maggiormente su passaggi posturali quindi sul passaggio seduto in piedi seduto in piedi oggi lavoreremo quasi tutto il nostro tempo con l'esercizio aerobico vi chiedo nuovamente scusa come hanno già fatto Fabrizio e Barbara per il ritardo purtroppo si sono accavallate due attività perché non c'eravamo accorti diciamo di questa sovrapposizione e iniziamo subito oggi in realtà voglio iniziare con cosa? vorrei iniziare prima di tutto visto che ora abbiamo lavorato sull'attivazione continuiamo un po' questa attivazione lavorando un attimino a livello vocale e poi successivamente iniziamo con gli esercizi aerobici quindi ci mettiamo tutti quanti davanti al nostro computer seduti Fabri puoi attivare tutti i microfoni? eccomi arrivo faccio subito scusa la richiesta imminente ok vai un attimo no 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 si sono si sono aspetta aspetta chissà che non hai l'audio aspetta un attimo muta tutti audio chissà muta tutti e facciamo attivare prima i video attivate tutti i video attiviamo i video forza non siate timidi attivate 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 oh forza 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 siete ancora tanti quindi continuate ad attivarli almeno una pagina siete 47 quindi non ci sono scuse vi contiamo per ora siete 4 per 5 20 ne mancano 26 27 va bene però da di una pagina ci possiamo accontentare allora cosa facciamo iniziamo con questo esercizio vado fin su con le braccia quando devo tornare giù devo utilizzare una vocale cosa faccio quindi quando vado su con le braccia e apro quindi quando faccio questo movimento inspiro successivamente vocalizziamo con la A A e scendo quando vocalizzo con la A la bocca si spalanca perché è questo A ok lo facciamo tutti insieme possibilmente mentre vocalizziamo la A le sopracciglia verso l'alto ora lo proviamo a fare tutti insieme vai Fabri attiva i microfoni pronti ispiro di nuovo di nuovo di nuovo di nuovo spiro adesso invece lo facciamo utilizzando la E quindi in questo caso è questo non vado a spalancare la bocca vado a creare praticamente un sorriso qui è il labbro superiore che si alza fa questo ok e le sopracciglia sempre verso l'alto lo facciamo insieme vai vado io Cristiano non ti preoccupare vai pronti partenza via inspiro via a e no nuovo so ancora un'ultima volta e questa volta lo facciamo con la I quindi è questo porto il muso in barese si dice in un modo io vi dico il muso in avanti le labbra in avanti faccio questo ok in barese ve lo dico come si dice non c'è niente di male si dice il muso appiccione quindi porto il muso in avanti così ok pronti lo facciamo tutti insieme attiviamo l'audio ispiro via o come portare le labbra proprio per farvelo fare bene molti di voi invece nel frattempo hanno sorriso non che vada male il sorriso però dobbiamo cercare di lavorare su tutta la muscolatura della mimica facciale quindi quando facciamo la I l'obiettivo deve essere quello di fare quasi un'espressione di bronzo poi ne possiamo fare diverse però in questo caso dobbiamo fare questo sopracciglia in basso e faccio questo ok ok perfetto occhio gristo c'è un piccolo ritardo audio video nella tua quindi magari attiva disattiva molto simpatico attiva disattiva il video e vediamo se cambia togli lo rimettilo io non voglio immaginare cosa ne sia venuto fuori ecco qua ok ci siamo? prima quindi non fa niente vai Fabio attiva tutto pronti via pronti inspiro ora con la I via 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 va bene così tutti grazie Fabri ok riprendiamo con la nostra attività ora penso che molti di voi mi potranno dare conferma che fra tutte le espressioni che abbiamo fatto quella più difficile questo lo scrivetelo in chat e poi se volete ne parliamo dopo quella più difficile fra le tre noi abbiamo fatto la A, la E e la I quella più difficile qual è stata? quasi sicuramente anticipo la risposta molti di voi risponderanno la I e perché è stata la I? in quanto nella I abbiamo utilizzato infatti è stata la I perché nella I? non perché io sia un mago e quindi riesco a prevenire le vostre risposte ma in quanto nella I utilizziamo molti più muscoli della faccia perché? perché quando utilizziamo la muscolatura facciale per essere arrabbiati imbronciati incazzati quando vogliamo mostrare del disprezzo tutte quelle diciamo mimiche facciali potremmo chiamarle negative vengono ad essere interessati molti più muscoli a livello facciale quando invece siamo felici allegri gioiosi mostriamo dello stupore vengono utilizzati molti meno muscoli ecco perché andando a vocalizzare con la I fate più sforzo e per quello vi stancate maggiormente questo che cosa vuol dire? non dovete essere incazzati state sempre belli tranquilli rilassati e felici perché la vita qualsiasi cosa accada è comunque bella quindi va vissuta senza stare a ripensamenti a ripensarci sopra quello è successo quello è successo quell'altro facciamoci scivolare tutto addosso e andiamo avanti detto ciò vando alle ciance e iniziamo oggi iniziamo abbiamo detto con l'attività aerobica quindi cosa facciamo con l'attività aerobica? prima di tutto posizione di base quindi seduti schiena dritta testa dritta mani all'altezza delle ginocchia piedi perpendicolari al suolo dopo aver preso questa posizione dovrò fare questo esercizio indietro avanti quando vado indietro chiudo i pugni quando vado avanti apro le mani ok? lo facciamo dieci volte farò oggi una serie di esercizi e alla fine andremo a creare quasi una specie di sequenza ok? dove li andremo a effettuare tutti insieme quindi prepariamoci aspettate che metto il mio cronometro ok pronti? le braccia partono dritte con le mani aperte ogni volta che faccio l'esercizio vocalizzo anche qui vado indietro dico indietro vado avanti dico avanti ci aiuta perché poi diventeranno più complicati gli esercizi quindi fatelo via indietro avanti indietro avanti indietro avanti indietro avanti aprite bene le mani avanti indietro avanti indietro avanti indietro avanti ognuno con la propria velocità avanti indietro avanti indietro avanti indietro avanti, indietro avanti, vocalizzate insieme a me, indietro avanti, indietro avanti, indietro avanti, indietro avanti, indietro avanti, stop, buona! Cambiamo esercizio, cosa facciamo adesso? Invece che fare indietro avanti, lo facciamo di lato, apro, chiudo, apro, chiudo, quando apro le mani si aprono, quando chiudo le mani si chiudono, ok? Un attimo che ho subito un attacco da un insetto. Pronti? Via! Apro, chiudo, apro, chiudo. Vocalizzate con me! Chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo. Com'è il movimento? Vado bene oppure sono un po' fuori con la voce? Eh Fabri? Apro, chiudo, 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 ok. Ok? Mi metto più vicino, tanto mi vedete bene, così mi vedete un po' più grande. Voi tenete sempre la sedia attaccata alla parete, eh? Adesso abbiamo fatto questo, avanti, indietro. Abbiamo fatto questo, apro, chiudo, cosa facciamo ora? Su, giù. Quindi parto con le braccia dove voglio, o all'altezza delle ginocchia, o a metà. Ti faccio questo. Su e apro le mani, giù e chiudo le mani. Su, apro le mani, giù, chiudo le mani. Pronti? Tutti insieme? Via! Su, giù. Su, giù. Su, giù. Vocalizzate! Giù, è molto più facile. Giù, su, giù. Su, giù. Su, giù. Su, giù. Su, giù. E ancora. Su, giù. Su, giù. Su, giù. Su, giù. Giù, ancora. Su, giù. Su, giù. Su, giù. Su, giù. Giù, ancora. Su, giù. Su, giù. Su, giù. Su, giù. Giù mi fermo. Stop. Adesso cosa facciamo? Facciamo una serie dove andiamo a inserire tutti questi movimenti. Ok? Ne facciamo cinque per ognuno. Tanto vi guido io. Cerchiamo di farlo tutti con lo stesso tempo. In questo caso lo stesso. Cerchiamo di attivare tutti i video. Vediamo un po' cosa ne viene fuori. Oh, già siete qua. Perfetto. Ok. Lo facciamo tutti insieme allora. Aspettate che faccio una cosa così ci vediamo tutti. Ecco qua. Pronti? Parto con le braccia a metà. Sulle braccia. E inizio. Indietro. Avanti. Indietro. Avanti. Indietro. Avanti. Indietro. Avanti. Indietro. Avanti. Avanti. Cambio. Mani sulle spalle. Via. Apro. Apro. Chiudo. Apro. Chiudo. Apro. Chiudo. Apro. Chiudo. Apro. Chiudo. Cambio. In alto. Su. Giù. Su. Giù. Su. Giù. Su. Giù. Su. Giù. Su. Giù. E mi fermo. Non si sente bene Fabio oppure non vado a tempo? Tutto ok. Tutto ok. C'era un problema. Avevi tolto lo spotlight. Non so. Ah ok. Ma se metto così comunque voi mi vedete grande? Sì. Adesso ti vede. Va benissimo. Ah ok. Perfetto. No era per far vedere anche sulla diretta la gallery view. Quindi così dovrebbe andare penso. Vediamo. Adesso lo rifacciamo di nuovo tutti insieme. Quindi parto con le braccia a metà. e iniziamo. Indietro avanti. Indietro avanti. Dovete parlare. Non vedo muoversi la bocca. Indietro avanti. Indietro avanti. Indietro avanti. Indietro. Cambio. Apro. Apro. Chiudo. Apro. Chiudo. Le mani sulle spalle. Chiudo. Apro. Chiudo. Apro. Chiudo. Cambio. Su. Giù. Su. Giù. Su. Giù. Su. Giù. Su. Giù. Vocalizzate. Non mi devo stancare soltanto io con le mie corde vocali. Giù. Su. Giù. Su. Giù. Su. Giù. Giù. Cambio. Ok. Buona, buona, buona. Adesso cosa facciamo? Adesso facciamo questo. Mi rimetto un attimino grande ancora. Però penso che mi vediate tutti. Allora facciamo questo adesso. Parto con le braccia. Sempre a altezza delle gambe. E vado a fare questo lavoro. Su. Su. Giù. Chiudo. Su. Su. Giù. Chiudo. Sono le mani che si muovono. È ta ta ta. Quindi ve lo faccio vedere di qua. Cosa faccio? Parto con le mani sulle ginocchia. Su. Su. Giù. Chiudo. Ok? Facciamo tutti insieme? Vai, 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 Cristian. Tranquillo. Me la vedo io. Vamos. Allora. Via. Su. Su. Giù. Chiudo. E vado giù. Ancora. Su. Su. Giù. Chiudo. Su. Su. Giù. Chiudo. Aggiungiamo una cosa. Guardatelo prima di ripartire. Su. Su. Giù. Chiudo. Batto sulle ginocchia. Ok? Pronti? Via. Su. Su. Giù. Chiudo. Su. Su. Giù. Chiudo. Su. Su. Giù. Chiudo. Su. Su. Giù. Chiudo. Un'altra volta. Su. Su. Giù. Chiudo. E ci fermiamo un attimo. Adesso cosa facciamo? Adesso cambiamo un attimo e lo facciamo in questo modo. Aggiungiamo un piccolo dettaglio. Sempre posizione di base per iniziare, però andrò a fare questo. Su. Su. Giù. Chiudo. Su. Giù. Quindi si aggiunge la mano sinistra che alla fine del percorso fa questo movimento. Prima su e poi giù. Ve lo faccio rivedere. Su. Su. Giù. Chiudo. Su. Giù. E vado sempre sulle ginocchia. Su. Su. Giù. Chiudo. Su. Giù. Quindi è la mano sinistra che fa il movimento finale. Ok? Pronti? Lo facciamo tutti insieme? Via. Su. Su. Giù. Chiudo. Su. Giù. Su. 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 Giù. Chiudo. Su. Giù. Ancora. Su. Su. Giù. Chiudo. Su. Giù. Ancora. Su. Su. Giù. Chiudo. Su. Giù. Sono girato un attimo perché è passato un gatto enorme dietro la macchina, nero. Ancora. Su, su, giù. Chiudo. Su, giù. Un'ultima volta, poi aggiungiamo un altro dettaglio. Su, su, giù. Chiudo. Su, giù. E stop. Adesso fate attenzione. Abbiamo fatto su e giù con la mano sinistra. Quindi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare avanti, coinvolgere anche la destra, altrimenti poi potrebbe offendersi e non partecipare più con noi alla riabilitazione motorica. Quindi includiamo tutti, perché siamo uguali per tutti. La mia ragazza ride e muove la testa in questo modo. Ok, lo facciamo tutti insieme. Allora, guardate prima. Su, su. Giù, chiudo. Su, giù. Su, giù. Su, giù. Ok? Su, su, giù. Chiudo. Su, giù. Su, giù. Lo facciamo tutti insieme. Lo facciamo tutti insieme. Io parto con un ritmo abbastanza lento e pian piano incremento. Via, insieme. Su, 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 giù. Ancora. Su, su, giù. Chiudo. Su, giù. Su, giù. Su, su, giù. Su, giù. Su. Su, su, giù. Oh, bravi, bravi, bravi. Ancora. Su, su, giù. Chiudo. Su, giù. Su, giù. Su, giù. Chiudo. Su, giù. Su, giù. Ok, visto che siete così bravi, aggiungiamo un altro piccolo step. Ossia. Ossia, cosa facciamo? Facciamo questo. Guardate prima me. Ve lo complico un po'. Quindi si fa così. Guardate prima. Su, su, giù. Su, chiudo. Su, giù. Adesso cambia. È insieme tutte e due le mani. Su, giù. E poi la destra. Su, giù. Ve lo faccio rivedere. Su, su, giù. Chiudo. Su, giù. Insieme. Giù. Su, giù. Per non sbagliarvi dovete capire la sequenza. Io quindi l'inizio è sempre lo stesso. Giù. Chiudo. Quando arrivo qui inizio con la mano sinistra e devo finire con la mano destra. Quindi prima è su, giù. Poi tutte e due perché dobbiamo includere tutti. Su, giù. E poi solo la destra. Su, giù. E vado giù. Pronti? Andiamo tutti insieme. Su, su, giù. Chiudo. Su, giù. Su, giù. Su, su, giù. Ok. L'ho fatto lento. Dobbiamo aumentare la velocità. Ancora. Su, su, giù. Chiudo. Su, giù. Su, giù. Qua in molti vi siete fatti fregare. Ripetiamo. Su, su, giù. Chiudo. Su, giù. Su, giù. Bravi. Su, giù. Ok. Ancora. Su, su, giù. Chiudo. Su, giù. Su, giù. Su, giù. Su, giù. Ultima volta. Via. Su, su, giù. Chiudo. Su, giù. Su, giù. Su, giù. Su, giù. E mi fermo. Quando sbagliate non vi preoccupate. Avete sbagliato. Continuate. Questa come indicazione sempre, anche nella vita. Uno può fare un errore anche quando sta parlando. Magari gli scappa qualcosa. Sbaglia. Non vi fermate. Perché se vi fermate siete perduti. Se ne accorgono tutti. Anche ogni tanto può essere che quando facciamo lezioni pure io e Fabrizio sbagliamo. Se io mi fermassi completamente tutti si accorgerebbero del mio errore. Invece no. Con molta no chance. Si va avanti. Quindi non vi fermate. Questa come indicazione proprio nell'approcciarsi alle cose. Non state troppo a pensare. Madonna. Ho sbagliato. Ora che cosa faccio? Ho sbagliato. Io sto facendo questo. Ta, ta. Più. Qua. Ta, ta. L'ho fatto con l'altra mano. Ok. Aggiungo questo. Non fa niente. Può essere. Si può sbagliare. Detto questo. Adesso lavoriamo con le gambe. Allora. Cosa facciamo con le nostre gambe? Iniziamo col fare questo lavoro. Mi metto sempre seduto sulla punta della sedia. E faccio questo. Inizio a muovere le braccia. E nel frattempo muovo anche le gambe. Come una piccola marcia sul posto. Ok? Ora, mentre continuo a muovere le gambe, mentre continuo a muovere le braccia, scusate, cosa devo fare? Devo aprire una gamba, aprire l'altra gamba. Chiudo una gamba, chiudo l'altra gamba. Apro una gamba, apro l'altra gamba. Chiudo l'altra gamba. Chiudo l'altra gamba. Apro una gamba. Dritta la schiena, apro l'altra gamba. Chiudo una gamba. Chiudo l'altra gamba. Continuiamo. Apro una gamba. Apro l'altra gamba. Chiudo una gamba. Chiudo l'altra gamba. Ancora, un'altra due volte. Apro una gamba. Apro l'altra gamba. Chiudo una gamba. Chiudo l'altra gamba. Apro una gamba. Forza! Apro l'altra gamba. Chiudo una gamba. Chiudo l'altra gamba. Mi fermo un attimo. Buono, buono, buono. Però questo non l'ho visto, se l'avete fatto. Ma è venuta la curiosità, che vi voglio vedere. Vediamo, vediamo. Facciamolo di nuovo. Vediamo, vediamo. Allora. Pronti? Mi metto in posizione. Via! Inizio ad oscillare. Gambe e braccia. Muovetevi. Forza! Muovete le gambe, muovete le braccia. Via! Apro una gamba. Apro l'altra gamba. Chiudo una gamba. Chiudo l'altra gamba. Apro una gamba. Apro l'altra gamba. Chiudo una gamba. Chiudo l'altra gamba. Apro una gamba. Apro l'altra gamba. Chiudo una gamba. Chiudo l'altra gamba. Ci posso fare una canzone su questa ritmica? Apro una gamba. Apro l'altra gamba. Chiudo una gamba. Chiudo l'altra gamba e mi fermo. Buono, buono, buono. Non è importante che lo riuscite a fare alla mia stessa velocità. Se riuscite a tenere quel ritmo, ho tanto di guadagnato. Se non riuscite, non fa niente. Colgo l'occasione, perché ora ho visto in video, se non erro, Adele, che beveva un po' d'acqua. Era una cosa che già dovevamo dire. Se non avete problematiche legate magari a disfagia e quant'altro, tenete sempre una piccola bottiglietta d'acqua vicino a voi. In modo tale che, se mentre facciamo un movimento, come ad esempio oggi, una giornata molto affosa, ci stiamo muovendo parecchio, anche io sto con un po' di affanno, se vi viene un po' di sete, potete bere l'acqua. Quindi tenetevi sempre una bottiglia vicina. Ovviamente, ripeto, escludendo quei casi dove magari c'è qualche problema di disfagia e quant'altro. Dove magari vi fate aiutare tutto qua. Ok. Abbiamo fatto questo lavoro. Ora che cosa facciamo? Un quarto, sì. Ok. Aggiungiamo un ultimo esercizio con le gambe. Faccio questo. Devo allungare. Vado un po' più indietro, se no non mi vedete. Allungo la gamba sinistra, allungo il braccio destro e ritorno. È il contrario. È il contrario. È ritorno. Uno, due. Uno, due. Quindi quando parto con i piedi, sulle punte dei piedi, gambe unite, da questa posizione, sempre posizione di base, seduto quasi sulla punta della sedia, più avanti. Metto i piedi uniti e in punta. Quando porto avanti la gamba destra e quindi mi poggio sul tallone destro, porto avanti il braccio sinistro. Ritorno. Ritorno. Contrario. Ritorno. La schiena è sempre dritta. È solo il braccio che va avanti e la gamba. Ok? Non mi devo piegare in avanti. Quello è un altro esercizio. Vi sto chiedendo di fare questo. Uno, due. Ok? Uno, due. Uno, due. Pronti? Via! Lo facciamo tutti insieme. Uno, due, tre. Vocalizziamo. Quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Ancora. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Mi fermo un attimo. Se avete notato, io ho dimenticato di dirlo, ma cosa faccio io tra un esercizio e l'altro? Faccio questo. Quando vado su un piede, ritorno, batto con la mano. Perché? Per lo stesso principio di cui vi ha parlato Fabrizio. Mi do un po' il ritmo, mi do delle pause. Ok? Pausa, vado, pausa, vado. Questo vi aiuta, quindi potete farlo in associazione a tutto il discorso di cui abbiamo parlato. Detto questo, vi ripostate per un paio di minuti e poi faremo soltanto cinque minuti, dove andremo a introdurre anche questi altri esercizi. Quindi faremo tutti gli esercizi dall'inizio alla fine, tutti quelli che abbiamo fatto, da quando abbiamo iniziato la lezione fino a quest'ultimo. Ok? Qui tiriamo con le braccia, ve li faccio vedere prima. Quindi inizio indietro, avanti, ogni volta con la vocalizzazione. Cinque per ognuno. Uno, due, tre. Guardate per ora. Quattro, cinque. Poi cambio. Uno, due, tre, quattro, cinque. Poi cambierò. Uno, due, tre, quattro, cinque. Poi cambierò ancora. Parto con le mani sulle ginocchia. Su, su, giù, chiudo. Lo facciamo semplice, non lo andiamo a complicare troppo. Sempre cinque anche di questo. Dopo che abbiamo fatto i cinque di questo, passeremo a la nostra piccola automobile, dove apro una gamba, apro l'altra gamba, chiudo una gamba e chiudo l'altra gamba. Ne dobbiamo fare cinque anche di questo completo. Dopo che abbiamo fatto questo, l'ultimo. Uno, due, tre, quattro, cinque. Saranno un cinque, sei minuti consecutivi, più o meno, penso. Riposiamo un altro attimino. Mi raccomando, cerchiamo di farlo tutti insieme. Luca lo vedo sfiducioso proprio. Mi muove la mano così come ti guardo io. Mi raccomando. Allora. Facciamo una respirazione tutti insieme da seduti, così come state. Ispiro ed espiro. Ancora. Ispiro ed espiro. Fabri! Fabri, ci sei? Eccomi. Ascolta, se io lascio così il mio video, sulla diretta si vede sempre la mia immagine grande? O si vedono le immagini piccole? No, la diretta la gestisco io. Quello che vedo io... Ah, perfetto, ok. Quindi io posso lasciare così? Puoi fare quello che vuoi, sì. Ok, apposta, apposta. Ogni tanto, vedi tu, fai dei piccoli cambi, capito? Se vuoi. Allora. Pronti? Ricordatevi vari esercizi. Ci sono io che tanto vi faccio da supporto. Però proviamo a farli ognuno singolarmente, ognuno individualmente, ognuno ricordandosi la sequenza. Non è facile ricordarsi tutta la sequenza. Ma vi sto dicendo così, può essere che nel farlo sbaglio proprio io, faccio una bella figura. Però cerchiamo tutti di ricordare la sequenza, ok? Pronti? Si inizia con le braccia, si finisce con le gambe. Quindi. Braccia su. Non ci fermiamo mai, eh? Se ci rendiamo conto di aver perso il ritmo, mi fermo un attimo e ricomincio. Via! Indietro, avanti. Indietro, avanti. Indietro, avanti. Indietro, avanti. L'ultimo indietro, avanti. Cambio! Apro, 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 chiudo. L'ultimo, apro, chiudo. Cambio! Su, giù, su, giù, su, giù, su, giù. Vocalizzate, ultimo, giù. Cambio! Su, giù, chiudo. Su, su, giù, chiudo. Su, 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 giù, chiudo. Aumentiamo un po' la velocità. Su, giù, chiudo. Ultimo. Su, su, giù, chiudo. Entriamo in macchina, pronti? Iniziamo con la nostra marcia. Via! Apro una gamba. Apro l'altra gamba. Chiudo una gamba. Chiudo l'altra gamba. Muovete anche le braccia. Apro una gamba. Apro l'altra gamba. Chiudo una gamba. Chiudo l'altra gamba. Ancora! Apro una gamba. Fatelo tutti. Apro l'altra gamba. Chiudo una gamba Chiudo l'altra gamba Apro una gamba È quasi l'ultimo dai Apro l'altra gamba Chiudo una gamba Chiudo l'altra gamba Ultimo Apro una gamba Apro l'altra gamba Chiudo una gamba Chiudo l'altra gamba Cambio Inizio col destro Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Ottimo! In realtà avevo fatto mali conti. Ci abbiamo messo per farla tutta la serie. Tre minuti di tempo. Il che è buono. Ora oggi per esempio ve l'ho fatta fare con cinque per ognuno. Le prossime volte vedremo di incrementare e aumentare il tempo. Detto questo, lasciamo un piccolissimo spazio oggi per le domande perché siamo un po' fuori tempo. Quindi se qualcuno vuole fare qualche osservazione, qualche domanda, qualche consiglio, qualsiasi cosa, come sempre, vi diamo la possibilità di attivare i microfoni e potete farlo. Buona giornata, è stato tutto bello. Grazie, grazie. Buona giornata anche a voi. Ciao. Arrivederci. Ciao Fabrizio. Ciao, arrivederci. Grazie. No video, no voice. Ho scarrito il video, il video mi ha tolto. Vorrebbe essere attivo. Ciao, devo chiudere. Perfetto. Ok. Se non ci sono domande, ci vediamo lunedì. Ciao a tutti e buona giornata. Buona giornata a tutti. Un abbraccio, buon weekend. Ciao a tutti.